Sono sbloccati questi fondi pari a 22 milioni di euro, circa 100 famiglie torneranno nelle case e quindi una grande soddisfazione da parte mia che ho seguito quotidianamente la vicenda. Voglio ringraziare il Presidente dell'Ater Maria Ceci, Silvio Liberatore, Capo della Protezione Civile Regionale e anche il Direttore dell'Ufficio di Ricostruzione Rivera. Un ulteriore passo avanti che facciamo per quando attiene alla ricostruzione dopo aver inserito ulteriore personale negli uffici per cercare di accelerare le pratiche. Con questa operazione dell'invenduto c'è anche un risparmio da parte del Governo del contributo di autonomo sistemazione. Quindi è una cosa molto importante, anche delle imprese che avevano queste case ferme hanno un introito e quindi c'è una certa economia che si muove. Io quotidianamente venivo sollecitato dai cittadini per far sì che si sbloccasse questa situazione e grazie appunto al supporto del nuovo Presidente dell'Ater, della nuova Governance e insieme alla Protezione Civile dell'Ufficio di Ricostruzione abbiamo raggiunto questo obiettivo. Nei prossimi giorni si faranno i roggiti e poi saranno assegnate alle famiglie un bel regalo di Natale.